Ciao ragazzi a tutti, questi sono i miei stampi che ho fatto con il talco vi ricordate che avevo messo il talco nei miei stampi e questo è il risultato mi sembra che... allora si sono stati bene uno chiaramente sempre quello tondo, questo è proprio uno stampo che è impossibile fare quindi quello è proprio... ci rinuncio e questo è il risultato qui c'è un buchettino vabbè può capitare questo ok è un po però segnato questo pure però come definizione e come distacco può andare bene questo è da rifinare ok allora dicevo che secondo me la cosa migliore per il momento è stata lo spray siliconico anche perché questo talco va bene però non mi ha convinto più di tanto anche se economico e sicuramente cosa meno dello spray però ho visto che anche qui per esempio l'angio letto a una cosa dire a delle delle piccole piccole imperfezioni questi qui ve li faccio vedere questo non ne parliamo questo ha fatto tutti i buchi quindi quando fa così oddio può essere anche la mia ceramica io però di solito la usavo l'anno scorso e la stessa e battendo gli stampi le goccioline venivano d'aria venivano in superficie ci riproverò con un altro tipo di ceramica però direi che l'esperimento è riuscito quindi sia con lo spray e silicone distaccante che con il talco abbiamo ottenuto un buon risultato quindi buon buono stampo a tutti poi il prossimo video vi farò vedere i miei stampini quelli dei corsetti che sto facendo quindi ho fatto mi sono fatta il corsetto con il film e poi mi sto facendo gli stampini per vedere come vengono i miei angioletti vi salutano come al solito e niente vi rimando al prossimo video e provate 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 a questo punto anche la mia amica antonia potrà non buttare questi stampi bellissimi ok con questo vi saluto se vi è piaciuto il video i video vari vi chiedo un piccolo like se non vi è piaciuto pazienza e iscrivetevi di comunque al canale perché ci saranno delle novità natalissie anche sulle confezioni natalissie eccetera questo vi saluto ciao 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 ciao